Ben trovati in ATG della mobilità fino a 3 dicembre, lavori sulla rete del gas in via Flaminia tra via Fracassini e via Canina. Il tratto di strada è evitato dal transito dei veicoli con modifiche alla viabilità. Oggi deviate le linee 2 bus C3N3S e N201. Percorreranno via Fracassini, lungo Tevere, Flaminio, via Canina e via Flaminia. Tempraneamente disattivate, 3 fermate. Stanotte orario lungo per le metropolitane A, B, B1 e C. Ultime corse dai capolinea all'1.30 di notte. Tutto per questo appuntamento.